uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone da ye bella tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e come vedete alle mie spalle secondo giveaway ragazzi per un piccone mint ringrazio il ragazzo che ha voluto regalare in realtà questo piccone a me che io regalo a voi che si chiama zerek x su instagram se volete penso che ne abbia anche altri mi raccomando pagate sempre con paypal 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 ok no pay safe no psn no contanti no altro che paypal vogliamo fare un contest per farvelo vincere quindi sotto questo commento scrivete sotto questo video scrivete quello che vi pare ma attenzione perché se non vi iscrivete al canale non potrò fare l'estrazione non verrete conteggiati domani in live faremo l'estrazione del vincitore che scriverò nel commento pennato io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale noi siamo in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.